C'è un lavoro che è fatto partire da un oggetto industriale, che è un trave, bisogna dimenticare che erano anche gli anni della minimal art, comunque ho preso un trave e ho seguito un anello di crescita che era all'interno del legno e seguendolo ho rivelato la forma dell'albero che aveva costruito la materia del trave.